ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video e in questo nuovo video vedremo come settare al meglio le inquadrature le views della nostra telecamera interna del cockpit per quanto riguarda il crj 700 anche il 550 dell'aerosoft il nuovissimo aeromobile che è stato recentemente rilasciato e lo vediamo qua in tutto il sospendore allora ragazzi questo non è un tutorial sul su questo aeromobile che ovviamente presto farò ci sto ancora lavorando quindi datemi ancora qualche giorno per poter portare al meglio un tutorial fatto come si deve e vediamo innanzitutto come settare le telecamere le inquadrature delle telecamere all'interno del cockpit va bene qui siamo all'esterno ci troviamo in questo momento sull'aeroporto di ajaccio giusto per per darvi un'anteprima del volo che farò poi successivamente per quanto riguarda tutorial quindi ajaccio si trova in corsica però adesso non ci interessa questo è uno scenario oltretutto che ho scaricato da flamtsi da flamtsim 2 che vi metto il link in descrizione veramente per raggiungerlo che è quello dove avete visto del tutorial precedente dove ho scaricato il pushback helper è un scenario ovviamente del tutto gratuito quindi si scarica facilmente si installa nella cartella community semplicemente copiando poi le appunto le cartelle all'interno della cartella community e il gioco è fatto fondamentalmente lo scenario si presenterà così comunque non è un tutorial anche su su sullo scenario di come si installa questo tutorial serve semplicemente per settare un po' le telecamere come ho detto prima la le varie inquadrature perché perché mi sono accorto e ho vedendo anche un po in giro su internet su youtube soprattutto alcuni video di persone che fanno dei tutorial abbastanza complicati per quanto riguarda settare le telecamere invece non c'è bisogno di andare nel file configuration modificare i vari parametri meno 20 meno 30 meno 40 assolutamente no le inquadrature si settano direttamente dal nostro menu delle opzioni generali allora innanzitutto è giusto per per iniziare le inquadrature basi sono queste adesso ve le faccio vedere un attimino fatemi tornare indietro su ok premendo i tasti sulla tastiera quindi control e 1 vedete che mi fa questa inquadratura che va verso sinistra mi inquadra un pezzo di monitor principali davanti al pilota e il pad che c'è a sinistra col control 2 mi va a inquadrare una parte dell'overhead vista dal pilota come se alzasse la testa guardando verso destra ok poi control 3 mi ritorna su questa inquadratura qui control 4 mi si avvicina un po più verso i monitor principali centrali e l'fmc contro il 5 mi fa vedere un pezzo del pedestal c'è la maniglia del pilota la possiamo sollevare contro il 6 mi va un po più giù per continuare a vedere la parte restante del pedestal contro il 7 vado su questo pannello che serve per controllare la quantità di carburante all'interno dell'aeromobile lo vedremo poi successivamente con il tutorial che farò contro il 8 mi fa questa inquadratura alta sul parabrezza davanti al pilota e contro il 9 ritorna alla posizione originale adesso vediamo accendendo un po gli strumenti ma solamente per farvi vedere come si vede oh mamma mia come si vedono gli schermi e sono un po scarsi per chi non ci vede bene come me è un po un casotto allora non fate caso a quello che sto facendo ora ma è solamente per ok 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 ecco questi qua sono gli strumenti di bordo vedete come è veramente difficoltoso vederli se io provo a rifare le inquadrature così allora control cos'era control 1 vedete che qua già diventa difficile da vedere per chi non ci vede niente come me e ha bisogno degli occhiali ok anche con gli occhiali comunque fa fatica vedete anche qua per fare il calcolo delle performance diventa veramente difficile vedere anche qua nelle opzioni andiamo qua vedete qua non si legge niente se io non non riesco a vedere niente se non ci zoom davanti così ok se ci zoom davanti così riesco a vedere checklist riesco a vedere la checklist ok quindi e la stessa cosa vale per control 2 quindi l'overhead che non è molto centrato quindi per dire è difficile vedere qua in fondo cosa c'è queste rotelline qua in alto vabbè dopo un po' che si utilizza vabbè uno va a memoria è ok però le prime volte che hai bisogno di molta concentrazione è veramente difficile allora abbiamo detto il 3 vedete il 3 qua se non zoom davanti a questi schermi non riesci a vedere niente non ti si ingrandisce neanche control 4 anche qui si va bene sei abbastanza vicino però non vedi molto cioè devi concentrarti sull'fmc e quindi hai bisogno di uno zoom molto più più ingrandito quindi control 6 vedete control 7 control 5 siamo andati indietro ok non è molto 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 pratico vediamo la schermata principale come settare un'inquadratura come si deve per quanto riguarda questo aeromobile per utilizzarlo al meglio allora andiamo in pausa nella sezione comandi e andiamo qua in tastiera allora se la tastiera non l'avete modificata avete ancora la tastiera predefinita andiate qui in basso e cliccate espandi riduci in questo caso tutti i menu che erano aperti si sono chiusi quindi se io li faccio qua ho tutti i menu aperti richiudo ok ce li ho tutti chiusi che cosa mi interessa? beh la telecamera quindi vado su telecamera telecamera cabina di pilotaggio ok scorrendo qui in basso vedete che possiamo personalizzare alcune telecamere quindi una decina di telecamere diverse ed è quello che ci serve non ce ne servono tantissime ce ne serviranno almeno cinque o sei telecamere sono quelle più importanti e vedete come c'è scritto carica telecamera personalizzata e bisogna fare alt e due premuti insieme contemporaneamente però in questo momento io non ne ho personalizzate quindi come fare per personalizzarle vedete che se scorrete più in basso c'è scritto salva telecamera personalizzata quindi salva telecamera personalizzata 0 personalizzata 1 2 3 4 5 6 fino ad arrivare alla 9 e bisogna premere control alt e il tasto ovviamente del numero che scegliamo di utilizzare facendo questo salviamo la telecamera come la posizioniamo noi e poi la richiamiamo appunto semplicemente premendo solo alt e il numero semplicissimo non mi sembra niente di complicato quindi ovviamente se avete più profili della vostra tastiera perché sapete che potete personalizzarla come volete vedete io ho tasti miei l'ho rinominata così poi c'è tastiera profilo che era un test che stavo facendo il primo periodo che ho installato Flight Simulator e poi c'è la tastiera predefinita se volete settare una nuova configurazione della tastiera da capo cioè totalmente nuova andate qua in manager predefinito vedete che potete cliccare qua in alto invece il più e appunto dare un nuovo nome alla configurazione al nuovo profilo della tastiera e configurare la tastiera nuovamente con nuovi pulsanti nuove personalizzazioni la potete duplicare e poi ci sono altre cose che adesso penso questo qua sia per editare per cancellare per resettare e eliminare ok adesso io non ho provato a vedere aspetta questa qua perchè infatti è predefinita vediamo un po' adesso mi incuriosisce da tasti miei non lo voglio toccare al massimo questo vediamo un po' cosa fa ah ecco qua ah ecco qua questo qua zera tutto questo riporta i valori predefiniti come da installazione pulita di Flight Simulator e questo qua elimina il profilo ecco qua semplicemente se volete fare uno nuovo cliccate su nuovo e niente quindi ricordatevi manager predefinito per trovare questo menu altrimenti vedete voi come vi viene meglio organizzarvi il tutto l'unica cosa che ci interessa in questo momento è salva e carica quindi salvare e poi caricare quindi cosa facciamo abbiamo visto che ctrl alt e poi il numero quindi torniamo indietro no non toccare niente ok allora diciamo che vogliamo ah ecco un'altra cosa giusto avete ragione per spostarci se avete i tasti predefiniti di Flight Simulator per spostarci all'interno del cockpit con le frecce direzionali della nostra tastiera ci spostiamo sia a destra che a sinistra allora premo il tasto di destra mi sposto verso destra vedete completamente fino ad arrivare al vetro dall'altra parte sinistra vado a sinistra sopra vado in alto praticamente con l'inquadratura e sotto vado in basso con l'inquadratura per spostarmi in maniera come se girassi la testa premo il tasto centrale del mouse premendo il tasto centrale del mouse mi muovo come se girassi la testa sinistra destra sopra sotto riclicco e ritorno comunque con la testa fissa ok allora io farei così vi consiglierei di fare questo allora in quadratura vediamo normale ctrl 1 vedete che mi si gira in questo modo voglio un bello un bello zoom centrato sul pad quindi mi giro bene con la testa il tasto centrale del mouse lo clicco una volta mi muovo bene zoom allora o col più o penso anche con la rotellina del mouse vedete un po' come vi viene meglio ok comunque centrate bene l'inquadratura diciamo che volete questa perfetto allora facciamo ctrl alt e gli diamo il comando 1 ok perfetto quindi allora facciamo un esempio premendo il tasto f sulla tastiera ritorniamo all'inquadratura normale quindi ora proviamo non più ctrl alt e 1 ma solamente alt e 1 vedete che abbiamo l'inquadratura che abbiamo salvato sul tasto alt 1 alt 1 ancora vedete che ritorna alla posizione di default centrale diciamo che vogliamo inquadrare bene adesso adesso i nostri monitor davanti a noi ok perfetto avviciniamo con lo zoom così perfetto mi sembra un'ottima inquadratura ora si riesce a leggere tutto quello che c'è sullo schermo ctrl alt 2 e salviamo quindi f tastiera torniamo in posizione normale e riproviamo alt 1 alt 2 alt 2 torniamo indietro semplice fate così anche per le altre cose facciamo un altro esempio vediamo un'inquadratura dell'fmc abbastanza vicina in modo che riusciamo a programmarlo come si deve ecco io su qua non mi sposterei perché guardate cosa succede se io mi sposto un po' con l'inquadratura oh mamma mia allora cerco di mettermi centrale così ok vedete che io vedo l'fmc in maniera precisa diretta proprio di fronte il problema sta vediamo se ok il problema sta nella leva degli spoiler che si trova davanti bisognerebbe tutte le volte che programmiamo l'fmc spostarla per premere i tasti non mi pare molto utile molto sensato che ho fatto tenere questa leva là davanti quindi ritorniamo l'inquadratura normale io vi consiglio di fare così allora la liquidatura normale iniziale e frontale del del nostro aeromobile diciamo nel nostro cockpit sul sedile zoomate ecco e facciamo che sia così in modo che si riesca a vedere diciamo un pezzo di di monitor e avere la tastiera completamente agibile quindi cliccabile che ci si possa comunque lavorare e lo schermo bello ingrandito che si riesca a leggere quindi abbiamo fatto control 1 control 2 andiamo avanti in sequenza control 3 quindi scusate control alt alt e 3 ok riproviamo allora alt 1 alt 2 e alt 3 semplice quindi adesso fatto questo potete sbizzarirvi come volete quindi proviamoci ecco magari con l'overhead andiamo alla posizione normale facciamo l'ultima e poi io direi che per questo tutorial ci siamo vedete che bello abbiamo l'overhead bello preciso diretto centrato quindi control alt 4 a questo punto e abbiamo salvato anche questa inquadratura riproviamo allora alt 1 alt 2 alt 3 alt 4 ora ve li metto con la F perfetto ragazzi questo è tutto ops non ho non avevo tolto via il tasto centrale del mouse allora spero che sia stato chiaro se avete dei dubbi qualche domanda non esitate a commentare qui sotto a breve a presto questi questione di dai diciamo qualche settimana non lo so dipende dal tempo libero che ho farò ovviamente il tutorial sul CRJ 700 dell'aerosoft vi ho già spoilerato diciamo uno degli aeroporti di partenza poi magari lo cambio non lo so dipende adesso vediamo come mi gira un po' la cambio destinazione o cambio partenza non lo so vediamo e vi ripeto sto ancora un po' studiando il discorso dell'atterraggio perché è veramente difficile con questo aeromobile perché non ha l'autotrottle quindi già io con faccio una fatica tremenda senza autotrottle quindi bisogna gestire un po' la velocità manualmente con le manette quindi non è semplice non è semplice però è molto bello vi vi assicuro che è molto divertente bene allora questo è tutto se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e ci vediamo appunto per i prossimi video grazie ancora e un saluto dal vostro capitano Cenzino ciao